Amici motociclisti, puntate su Verona a questo weekend, a Verona c'è il Motor Expo, potrete visitare tante moto e tanti accessori inerenti alle moto, dunque noi della mia Verona vi aspettiamo, come dice Nico, casco ben allacciato, luce accesa in più di giorno e prudenza. Sempre, vi aspettiamo a Verona! Grazie a tutti!